Malika Ian, una serata emozionante per tanti motivi. Mi sono commossa un sacco di volte, perché ho visto come in realtà ci sono un sacco di cose stupende che succedono intorno a noi. Ho visto studenti, ho visto donne giurate, prese no, società civile, quindi non solo cineasti, non solo gente dell'ambiente diciamo. Lavorare è un progetto bellissimo e quindi grazie anche a voi che l'avete divulgato con tanto impegno. Grazie a te che è stata qui. E qui effettivamente è questo, un grande coinvolgimento di tante persone e poi su temi come quelli della difficoltà della donna, del razzismo, insomma di temi. Soprattutto perché, no, soprattutto a sottolineare che nel mondo succedono un sacco di cose perché è un posto splendido. Sì, grazie. Grazie. Hai tenevo un'emozione particolare? Io ho permesso di essere nella luce, s'il vous plaît. Sì, 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 è un grande honore, soprattutto con un giro come quello che ci. Quindi, c'è, c'è, c'è me troppo molto e mi piace molto, mi piacevole, mi piacevole sorprendere. Grazie, e il vostro prossimo progetto? Il y eno a molti, sono ancora in gestazione, non so, non so, ma a chassi un po' tardi. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.